Ebbene raga, non siamo legati a squadre di calcio, ma ci piacerebbe fare un augurio particolare, aspetta un po' che a Simone e Michele Decimo, sposi ieri, buona vita comune raga, buona vita comune. Afrodite, 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 ma cos'è un compleanno, un qualcosa, un burdeo? Fateci sapere, fateci sapere, scrivete un biglietto, attenzione che dopo facciamo casino insieme, occhio raga, però dobbiamo a questo punto, arrivati ai giorni nostri, ritornare indietro negli anni 50. Per poi arrivare fino ad oggi, e negli anni 50, la disco music raccontava, lungo la strepitosa California, Surfing in New, USA! Surfing in New, USA! Surfing in New, USA! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.